In questo video faremo una breve panoramica sul database utensili. Vedremo come aggiungere, modificare, eliminare gli utensili nel database. Per aprire il database utensili, clicchiamo su questa icona. Vediamo in dettaglio, come è composta l'interfaccia del database. La finestra del database utensili, è divisa in due parti. Nella parte sinistra sono elencati vari utensili e nella parte inferiore dei menu. Nella parte destra vengono visualizzate delle informazioni quando è selezionato un utensile. Nelle informazioni viene visualizzato il nome e i parametri dell'utensile. Ogni utensile ha un nome e caratteristiche di parametri di lavoro diversi. Possiamo modificare i parametri dell'utensile secondo le nostre esigenze. Nell'elenco si trovano due gruppi di utensili con due metriche diverse. Notate come l'elenco degli utensili è suddiviso dal nome della forma dell'utensile. Per ogni lavorazione possiamo scegliere nei due gruppi l'utensile adatto. Possiamo creare anche un nuovo utensile cliccando su Nuovo. Possiamo anche copiare un utensile e poi cambiare i parametri. Possiamo eliminare un utensile dall'elenco da un gruppo. Possiamo esportare o importare un database utensili. Una cosa molto utile è che possiamo creare uno o più gruppi utensili personalizzati. Creiamo un nuovo gruppo di utensili. Cominciamo con l'assegnare un nome al nuovo gruppo utensili. Inseriamo una breve descrizione. Anche se è facoltativa. Alla fine clicchiamo su Applica. Ora che il nuovo gruppo è stato creato, inseriamo degli utensili. Clicchiamo su Nuovo. Selezioniamo il tipo di utensile nel menu a discesa. Creiamo una fresa a candela, End Mill, con la punta da un millimetro per traforare. Cominciamo con lo scrivere il nome dell'utensile. Nelle note, scriviamo una breve descrizione. Nella casella Impostazioni del diametro della punta, scriviamo un millimetro. Nei parametri di taglio, dobbiamo cambiare qualcosa. Dobbiamo diminuire la profondità che la fresa fa ad ogni passaggio. Altrimenti se affonda troppo dato che la punta è un millimetro, si romperebbe. Cambiamo il parametro con 0,5 mm. Il parametro del passo laterale è uguale al diametro della punta. Va bene così. Passiamo ora nei parametri degli avanzamenti e dei giri del mandrino. La velocità di avanzamento, è troppo alta per una fresa con la punta da un millimetro. Diminuiamo anche la velocità di discesa della fresa. Il numero sequenziale dell'utensile, 1, va bene. Sotto il nuovo gruppo creato, è stato aggiunto un utensile. Creiamo un altro utensile nel nuovo gruppo. Creiamo una fresa uguale alla precedente ma con la punta da 4 mm. Cambiamo il parametro del diametro della fresa nella casella geometria. Nei parametri di taglio, possiamo aumentare la profondità che la fresa compie ad ogni passaggio. Aumentiamo anche i parametri dell'avanzamento e discesa della fresa. Assegniamo il numero sequenziale alla fresa e clicchiamo su Applica. Bene. Abbiamo aggiunto un altro utensile al nuovo gruppo. Aggiungiamo ancora un altro utensile. Creiamo una fresa bolnose con punta da un millimetro. Questa fresa servirà nella lavorazione di finitura di rilievi. Quindi i parametri di taglio ovviamente saranno diversi. I parametri di avanzamento vanno bene. Lasciamoli così. Anche questo utensile è stato aggiunto al nuovo gruppo. Creiamo un altro. Creiamo un bulino per incisioni. Con punta da un millimetro e angolo 30 gradi. Grazie. 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 Nei parametri della geometria, possiamo impostare il diametro del gambo della fresa. Impostiamo o modifichiamo anche gli altri parametri. Secondo l'uso che vogliamo fare della fresa. Grazie. Creiamo ancora un nuovo utensile. Creiamo una fresa con la punta di diamante per incisione. Questa fresa la vedremo in dettaglio in una lezione dedicata all'incisione con diamante. In genere quando si usa il diamante, il mandrino viene spento. Nelle prossime lezioni, vedremo come impostare le lavorazioni e quali frese scegliere. Impostare i parametri per ogni lavorazione con esempi ed esercizi. Impostare i ramientri per amassisti. In individu lezioni sono le in e popolo. Grazie a tutti